Siamo con Guerino Testa, consigliere regionale nonché capogruppo di Fratelli d'Italia, appunto il Consiglio regionale. Ieri si è discusso di una vostra iniziativa in merito all'affido familiare. Di cosa si tratta? Innanzitutto voglio ringraziare l'intero Consiglio regionale che ha votato in maniera unanime la proposta di Fratelli d'Italia per istituire un'indagine conoscitiva sugli affidi nella regione Abruzzo. Il tutto parte un po' dalle vicende di Bibiano in Emilia Romagna e quindi anche noi riteniamo opportuno, anzi molto opportuno, conoscere lo stato dell'arte degli affidi sia giudiziali che consensuali che ci sono nella nostra regione per verificare in un lasso di tempo di circa sei mesi e senza costi a carico del Consiglio regionale lo stato dell'arte sui tempi, sulle attività di monitoraggio che vengono effettuati, come vengono effettuate queste attività di monitoraggio. Ovviamente il nostro auspicio è che alla fine di questo tragitto ci sia una situazione positiva in Abruzzo e che non vengano a galla situazioni scabrose e drammate come quelle che si sono avute nella regione Emilia Romagna. Noi riteniamo che alzare l'asticella del sociale su un tema così importante vada in qualche maniera a connotare positivamente una regione, in questo caso la regione Abruzzo, su un dato così importante che parliamo della tutela dei minori.